Buonasera, chiedo ai gentili ospiti di prendere posto, sono ammesse anche le persone che purtroppo dovranno stare in piedi perché questa è una serata come vedete molto affollata, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti coloro che fanno parte del pubblico di Segnavie già da qualche anno, noi siamo partiti nel 2010 e benvenuti anche a tutti coloro che sono qui questa sera per la prima volta. Sono Francesca Trevisi e il mio compito è come sempre quello di introdurre Segnavie, orientarsi nel mondo che cambia, il ciclo di conferenze ideato e organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che come sapete ci mette a confronto con grandi pensatori contemporanei. Di che cosa parleremo questa sera? Come sapete ospite di questa sera il filosofo Nuccio Ordine che sarà intervistato da Paolo Mieli e parleremo dell'utilità dell'inutile. Dunque Nuccio Ordine, come ho detto è un filosofo, è professore di letteratura italiana all'Università della Calabria, è famoso per aver fatto degli studi accademici molto importanti su Giordano Bruno, è saggista, scrive sul Corriere della Sera e nel 2013 ha pubblicato un libricino detto non in senso diminutivo ma è un grande libro in realtà, ce l'ho qui in mano, è un libro che si intitola L'utilità dell'inutile che ha riscosso un incredibile successo e voglio anche darvi dei numeri di questo successo. 12 edizioni in Italia, 11 in Spagna, 7 in Francia e pensate in Grecia, e questo credo sia significativo, è attualmente al primo posto dei libri più venduti nel settore dei saggi. Quindi tradotto in 16 lingue, insomma è un libro che sta facendo parlare di sé, in questa serata capiremo perché. Quindi io accoglierei con un applauso Nuccio Ordine, qui questa sera a Segnavier. Buonasera professore, benvenuto, benvenuto. Le do il benvenuto da parte di Fondazione Casa di Risparmio di Padova e Rovigo, naturalmente del Presidente Antonio Finotti che è in arrivo, come sapete la tradizione vuole che sia lui ad aprire la conferenza, ma questa sera siccome a qualche minuto di ritardo abbiamo cominciato, poi ci raggiungerà. Quindi benvenuto a Padova. Grazie. Nuccio Ordine sarà intervistato da Paolo Mieli, è sicuramente un nome che molti di voi, tutti vorrei dire, conoscono. Come sapete è stato direttore della stampa, è stato direttore del Corriere della Sera, è giornalista, saggista, storico, ha pubblicato moltissimi libri, attualmente è Vice Presidente di RCS Media Group, Paolo Mieli, lo invitiamo a salire sul palco per un saluto. Buonasera Dottor Mieli, benvenuto a Padova e benvenuto a Segnavie. Grazie. Buonasera da parte di Fondazione Casa di Risparmio. Bene, come funziona allora la giornata, questa serata? La prima parte è dedicata al Professor Ordine che ci spiega dunque questa teoria dell'utilità e dell'inutile, poi il Dottor Mieli intervisterà il Professor Ordine e quindi come tradizione la parola passa a voi per alcune domande che come sempre vi chiediamo siano sintetiche di modo tale da dare spazio veramente a tutti. Siamo in modalità social come sempre, quindi potete partecipare a questa conferenza anche sui social network, sapete che Segnavie è su Facebook, naturalmente è su Twitter, usate l'hashtag Segnavie, cancelletto Segnavie, potete citare il Paolo Mieli, chiocciola Paolo Mieli perché anche lui è su Twitter, mentre per quanto riguarda il Professor Ordine ho trovato una fanpage. Io non ho un account, però c'è un gruppo di studenti che l'hanno fatto. Esatto, è una fanpage, chiocciola utilità inutile senza accento e così potete partecipare alla community. Sul sito di Segnavie troverete tutte le foto e naturalmente la registrazione di questa sera. Credo di aver detto tutto. Ultima cosa, il libro del Professor Ordine è a disposizione, diversi titoli di Paolo Mieli, alcuni credo anche autografati sono a disposizione e quindi al termine della conferenza naturalmente potete trovarli all'uscita. Bene, allora lasciamo la parola a Nuccio Ordine e a più tardi. Grazie. Grazie a lei. Bene, buonasera, sono molto lieto di essere qui e di vedere soprattutto una sala così piena. ebbene, io vorrei ringraziare il Presidente Antonio Finotti che ha voluto invitarmi e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e vorrei anche ringraziare Maria Paola Lacaria che insieme alla sua equipe ha creato un'accoglienza molto calorosa. Bene, vorrei partire con un interrogativo anche un po' sotto forma di provocazione. La domanda che io farei a tutti voi è cosa siete venuti a fare a segnavie questa sera. Perché la domanda che vi pongo? Perché non mi pare a mia conoscenza che il Presidente Antonio Finotti o i singoli membri della Fondazione rilascino diplomi, attestati, certificati, crediti, punteggi da spendere in concorsi o in avanzamenti di carriera. E allora viene spontaneo chiedersi perché decidere di partecipare a eventi come quelli di segnavie per ascoltare interventi di letterati, di scienziati, di economisti come nel corso degli anni siete stati abituati a fare. Perché passare un pomeriggio in un contesto dove diciamolo chiaramente non c'è nessuna possibilità di ritornare a casa con un diploma o con un conto in banca più solido. Ebbene da molti anni centinaia di persone, migliaia di persone partecipano a questi eventi di segnavie. Perché partecipano? Perché hanno sentito e sentono il bisogno di compiere una scelta gratuita. Perché hanno sentito e sentono il bisogno di partecipare ai venti senza pensare a un profitto materiale, senza pensare a un guadagno economico, ma solo per il piacere di coltivare un interesse o in alcuni casi più estremi anche una forte passione. Per che cosa? Per la letteratura, la filosofia, l'arte, la musica, la scienza, che sono poi i grandi temi che vengono dibattuti. Quindi si tratta, quello che voi state facendo questa sera? Di una scelta controcorrente in un contesto politico, sociale ed economico sempre più dominato dalla dittatura dell'utilitarismo. Ormai noi non ci facciamo più caso, ma la prima cosa che uno ci chiede quando noi proponiamo qualcosa è la solita domanda, a cosa serve? Ebbene, a cosa serve leggere una poesia? A cosa serve leggere un romanzo? A cosa serve studiare il greco e il latino? Domanda che mi fanno tantissimi genitori quando rientro d'estate al mio paese per indirizzare i figli poi all'università? Ebbene, nell'università, diciamo nel mondo globale dell'utilitarismo, un martello vale più di un quadro, un coltello vale più di una poesia, una chiave inglese vale più di una sinfonia. E questo perché? Perché è facile capire a cosa possa servire un martello, una chiave inglese, ma è difficile capire a che cosa possa servire la musica, la letteratura o l'arte. Vorrei leggervi un passaggio di un grande filosofo, John Locke, che a un certo punto, John Locke parla di una disgrazia che può capitare in alcune famiglie. Qual è questa disgrazia? Di avere un figlio che vuole diventare poeta. E John Locke dice questa è una grande disgrazia perché se uno ha un figlio che vuole diventare poeta, ebbè questo figlio rovinerà tutta la sua famiglia. Io vi leggo il passaggio di John Locke, l'opera e pensieri sull'educazione pubblicata nel 1693. Bene, cosa dice John Locke? Credo infatti che i genitori dovrebbero piuttosto adoperarsi, per quando sia possibile, per soffocarla e sopprimerla questa voglia. Già che non vedo per quale ragione un padre possa desiderare che suo figlio diventi poeta, a meno che non desideri che egli disprezzi tutte le altre occupazioni e gli altri affari. E questo non sarebbe ancora il peggiore dei mali. Perché? Se egli riesce un fortunato rimatore e si acquista la reputazione di uomo di spirito, vi prego di considerare in quali luoghi e in quali compagnie gli piacerà spendere il suo tempo, anzi il suo patrimonio. Infatti rarissimamente si vede che qualcuno abbia scoperto un miniere d'oro o d'argento sul monte Parnaso. L'aria vi è piacevole, ma sterile è il suolo e si hanno pochi esempi di gente che abbia cresciuto il proprio patrimonio con ciò che vi raccolse. Quindi per John Locke, un genitore che ha un figlio che vuole fare il poeta, è una delle più grandi disgrazie che possa capitare in una famiglia. Bene, oggi nessuno si scandalizzerebbe di fronte a queste argomentazioni. Perché se voi riflettete bene, l'utilitarismo ha ormai invaso ambiti e spazi della nostra vita che dovrebbero essere preservati invece dalla logica del profitto. Non tutto può essere trasformato in merce. Ci sono istituzioni e valori che andrebbero difesi da questa deriva utilitaristica. Io proverò a darvi soltanto qualche esempio. Partiamo dall'istruzione, che è un tema importante, che sta a cuore a tante famiglie. Voi avrete dei figli, dei nipoti e quindi è un tema, come dire, centrale nella vita del Paese. Ebbene, le scuole e le università non possono essere trasformate in aziende, come sta accadendo sempre di più. Perché è questo? Pensate un attimo al linguaggio. E il linguaggio non è mai neutrale nelle cose che facciamo. Ma è possibile che uno studente che si iscrive all'università, le prime parole che sente sono crediti e debiti. È possibile che una volta chiamavamo i presidi presidi, adesso sono diventati dirigenti scolastici. Ma perché bisogna appiattire questi universi verso una logica di tipo aziendalistico che non è la logica dell'istruzione? Vi darò solo qualche esempio per farvi capire qual è il punto difficile di quello che stiamo affrontando e vivendo. Esempio. Cosa si fa in un'azienda quando c'è un ramo che non produce? Lo si taglia. Allora, esempio, noi abbiamo all'università orientale di Napoli il sanscrito. Abbiamo due studenti, un professore. Uno dice, l'università non si può permettere di tenere un professore per due studenti. Chiudiamo il sanscrito. La stessa cosa accadrà più avanti per il greco. Non ci possiamo permettere di tenere un professore di greco per dieci studenti. Una volta chiuso il greco arriverà il latino. Non ci possiamo permettere di mantenere il latino. Allora, a questo punto che succede? Immaginatevi questo scenario di costruire un mondo dove fra cento anni, quando saranno morti gli ultimi conoscitori del greco, gli ultimi conoscitori del sanscrito, gli ultimi conoscitori del latino, ci sarà una scoperta in una parte dell'universo e nessuno sarà più in grado di capire che c'è scritto su quella lapide. Ma perché questo è importante? Perché come voi sapete, quando noi perdiamo il senso del passato, noi perdiamo l'identità e quando noi abbiamo perduto l'identità, noi abbiamo perduto la capacità di poter capire il presente e prevedere il futuro. La memoria, la memoria è fondamentale. Se noi continuiamo ad applicare questo ragionamento, distruggeremo la memoria. Voi sapete che nell'Olimpo greco una delle idee più importanti era la dea Mnemosiune, era la dea della memoria, la mamma delle nove muse. Tutti i saperi passavano dalla memoria. Ebbene, perché la gestione menageriale nella scuola non va bene, nell'università non va bene? Perché si sta burocratizzando tutto il sistema. Se voi, chi frequenta, penso che ci saranno dei colleghi che insegnano nei licei, nelle università. Oggi praticamente un professore universitario che studia e che insegna è un miracolo. Perché dovrebbe passare tutto il giorno a fare dossier, a compilare schede, a compilare tutta una serie di materiali che servono alla valutazione, che servono a ottenere finanziamenti, che servono a tutta una serie di cose. Ebbene, questo tipo di mondo, di universo, ci ha portati a una lenta distruzione della funzione principale che dovrebbe avere un professore, che è quella di insegnare e che è quella di fare ricerca. Oggi i professori partecipano ai consigli, ai consigli di partimento, ai consigli di corsi di laurea, ai consigli di amministrazione. Mettete più che volete dentro questo calderone. Ebbene, questo non va bene. Non va bene come non va bene l'idea, ne parlavamo poc'anzi, di professionalizzare addirittura le scuole secondarie, sempre di più, con l'illusione che il mercato possa poi assorbire questi giovani che a 13 anni, anziché di essere formati come cittadini e uomini colti, devono già imparare un mestiere a 13 anni. Cioè questo è il senso della follia che si sta creando in un paese che ha perduto di vista il fatto che la scuola, soprattutto le scuole secondarie, non hanno lo scopo di formare le persone a un mestiere. Hanno lo scopo di rendere dei cittadini colti, dei ragazzi che diventino migliori, che siano in grado di capire le cose. Poi chi sarà colto? È chiaro che potrà esercitare la sua professione con maggiore consapevolezza. Ebbene, ora passiamo a un altro tema, il tema del patrimonio artistico. Abbiamo parlato dell'istruzione, il patrimonio artistico è fondamentale. Noi viviamo in un paese meraviglioso, viviamo in un paese unico al mondo. In America se uno vuole andare a vedere un'opera d'arte deve entrare in un museo. Da noi per vedere un'opera d'arte basta camminare per le piazze bellissime di Padova e vedere palazzi meravigliosi, vedere fontane straordinarie. Ma pensate Venezia, pensate Napoli, pensate Firenze, ma noi abbiamo un mondo di queste cose. Ebbene, ci sono dei signori che negli anni Ottanta hanno concepito questo patrimonio chiamandolo giacimento culturale. Ma non c'è una volgarità peggiore di paragonare un monumento che è l'espressione di una bellezza a un giacimento culturale. Alcuni si sono spinti negli ultimi anni a chiamarla addirittura petrolio del paese. C'è una trasmissione che ha dei buoni intenti della RAI intitolata Petrolio dove si fanno vedere tutti i monumenti italiani. Senza sapere che quando si parla di petrolio la comparazione è completamente assurda. Perché è assurda? Perché questi signori dovrebbero andare a vedere che cosa succede nei paesi dove si estrae il petrolio. Le multinazionali si arricchiscono, le povere popolazioni povere erano e povere restano e quando le multinazionali hanno sfruttato quei terreni se ne vanno e lasciano il disastro ecologico in quei luoghi. Quindi questo è il patrimonio. E allora l'idea qual è? L'idea è che il valore del Colosseo non si misura sui soldi che il Colosseo ti può far guadagnare. Il valore del Colosseo, il valore di un monumento, di un quadro, il valore di una scultura è un valore oggettivo che è indipendente dai soldi che può produrre. Poi è chiaro che se noi sappiamo gestire queste cose che un museo produca anche benefici, produca profitto, va benissimo. E allora pensate un secondo le mostre. Noi in un paese dove ci sono tantissime mostre, sui giornali cosa si dice quando ci sono le mostre? Questa mostra ha avuto successo perché ha staccato 100 mila biglietti, ha guadagnato 10 milioni di euro. Come se il valore di una mostra si potesse misurare solo nei soldi e nei biglietti che si staccano. Ma è possibile che nessuno si interroghi sul fatto e dica ma quella mostra in che maniera ha potuto aumentare la coscienza civile del cittadino che è andato a vederlo? Quella mostra in quale maniera è potuta essere utile a far capire e a far cogliere al cittadino l'identità di un paese, l'idea della memoria, della storia, della cultura, della bellezza in sé. La ricerca scientifica, altro tema. Sempre di più lo Stato dice alle università trovatevi i soldi sul territorio per finanziarvi la ricerca scientifica. Ebbene sempre di più le università devono appoggiarsi a delle multinazionali. E le multinazionali cosa fanno? Ti finanziano una cosa ma la finanziano per un prodotto finalizzato. Perché è chiaro che nessuna multinazionale ti dà i soldi, come dire, per la cosiddetta ricerca di base, cioè una ricerca che non ha l'idea di un profitto immediato, la ricerca di lunga durata. Ebbene se noi ci pensiamo, vi do due esempi. Uno chiaro. Chi ha inventato la radio? Tutti diciamo Marconi. Ma Marconi non avrebbe inventato un bel niente se non ci fossero stati due signori di nome, Maxwell e Herz, che hanno fatto degli studi fondamentali teorici sulle onde elettromagnetiche di cui poi Marconi si è servito per fare quello che ha fatto, cosa nobilissima. Ma se uno avesse chiesto a Maxwell e Herz a cosa servono queste cose, questi studi che stai facendo, loro con molto candore avrebbero risposto a nulla. Sono studi teorici. Vi do un altro esempio. Negli anni 50 un grande signore, che era il direttore del Ministero della ricerca scientifica in Inghilterra, fa una conferenza stampa e dice noi in Inghilterra abbiamo sempre finanziato il 99% dei progetti finalizzati, cioè di un progetto per realizzare qualcosa. Una sola volta abbiamo fatto eccezione. Sapete come si chiamavano i signori che hanno avuto quel finanziamento, cioè l'1% sul 99? Si chiamavano Watson e Crick, cioè i due signori che hanno scoperto il DNA. E voi sapete che il DNA è una delle rivoluzioni più importanti nella storia dell'umanità. Quindi non è vero che le cose apparentemente inutili poi non si rivelino utili, ma perché se noi creeremo degli scienziati che saranno solo pressati a fare delle scoperte finalizzate al mercato, la scienza certamente farà dei progressi, ma non avremo le grandi rivoluzioni degli Einstein, non avremo le grandi rivoluzioni segnate da Watson e Crick. Vado al sodo. Adesso è facile capire cosa viene considerato inutile nella nostra società. Basta leggere con attenzione la legge finanziaria di un Paese per capire ciò che è utile e ciò che è inutile. Dove cadono i tagli? Scuola, università, ricerca scientifica di base, biblioteche, archivi di Stato, teatri, conservatori, sopraindendenze, scavi archeologici. Queste sono le cose inutili del Paese, perché ogni anno vengono tagliate. Ebbene, difendere ciò che è considerato inutile perché non produce guadagno, non produce profitto immediato, è diventato sempre più necessario. Nel corso dei secoli molti filosofi, molti letterati, artisti hanno insistito sull'importanza dell'inutile per rendere l'umanità più umana. Ebbene, quello che io ho cercato di fare modestamente in questo libro è proprio quello di raccogliere una serie di testi e di testimonianze dal mondo classico al Novecento di grandi scrittori che ci hanno insegnato che l'umanità ha più bisogno dell'inutile che dell'utile per diventare più umana. E allora, perché ho scritto questo libro? L'ho scritto per i miei studenti, per i miei studenti di primo anno all'università. Io ho il primo giorno di lezione e dico agli studenti, cosa siete venuti a fare all'università? Un po' come ho chiesto a voi, ma la cosa è diversa, perché lo studente che viene all'università, viene all'università perché vuole la laurea, perché vuole fare l'esame. Ebbene, io dico ai miei studenti, se voi venite all'università perché dovete prendere la laurea, dovete superare gli esami, partite con il piede sbagliato. All'università non ci si iscrive per una laurea, a un liceo non ci si iscrive per un diploma. E gli studenti mi chiedono, ma allora cosa dobbiamo fare? Dovete cercare di diventare migliori, perché lo studio, fine a se stesso. Il sapere per il sapere ci aiuta a diventare migliori. Ebbene, io recito sempre ai miei ragazzi un bellissimo aneddoto di David Foster Wallace, grande scrittore americano, per fargli capire il senso di quello che dico. Cosa dice David Foster Wallace? David Foster Wallace dice una cosa importantissima. In un racconto intitolato Questo è l'acqua, parla di un aneddoto dove in un acquario ci sono due pesci giovani che nuotano nell'acquario. Dall'altra parte c'è un pesce più anziano. Il pesce anziano incontra i pesci giovani e fa ciao ragazzi, com'è l'acqua? I pesci giovani rimangono stupiti dalla domanda, nuotano un altro po', poi uno dei due pesci chiede all'altro ma che cavolo è l'acqua? Ebbene, qual è il senso di questo aneddoto? Che le cose essenziali della vita noi non siamo più in grado di capirle, cioè che noi abbiamo perduto il senso dell'essenzialità. Noi siamo come quei piccoli pesci che non hanno niente a che fare con le trote, perché le trote comprano le lauree all'estero come sapete, no questi sono pesci, sono pesciolini più ingenui che non capiscono che la cultura, la musica, tutti quei saperi inutili sono le cose essenziali che ci fanno diventare esseri umani in grado di ragionare con la nostra mente e di capire con la nostra mente. Ebbene, leggerò, perché poi Paolo Mieli ci deve lasciare, leggerò più avanti un paio di recensioni e un paio di citazioni nel corso del dibattito, ma vorrei chiudere questo discorso con altri 3-4 minuti. Noi non possiamo tacere di fronte alle menzogne che ci vengono raccontate, non ci sono i soldi per l'istruzione, non ci sono i soldi per la cultura, per il teatro, ma basta sentire quello che la Corte dei Conti urla da anni in questo Paese. Questo è un Paese dove noi spendiamo dai 60 ai 70 miliardi all'anno di corruzione, questo è un Paese dove lo Stato perde 180 miliardi all'anno di evasione fiscale. Se noi avessimo delle persone per bene in questo Paese avremmo un PIL alle stelle sommando i 60-70 miliardi e i 180 miliardi. Io non dico di recuperare tutto, ma dovremmo cercare di costruire dei giovani non corrotti nella culla a 13 anni con l'obiettivo che devono guadagnare soldi e devono fare la scuola per imparare un mestiere, ma dei giovani che siano in grado di amare il bene comune, di capire che la cultura è l'unica strada che abbiamo per cercare di diventare migliori, per essere degli uomini e delle donne che ragionano con la loro testa. Ebbene, investire nell'istruzione, nella cultura, significa educare i giovani all'amore per il bene comune, al rispetto per la giustizia, alla solidarietà umana, alla tolleranza, al rifiuto della corruzione, alla democrazia, con l'obiettivo di migliorare il paese, anche non solo civilmente, ma anche economicamente attraverso questo tipo di ragionamento e di educazione. E allora, voi sapete che un signore disse qualche anno fa, con la cultura non si mangia. Ebbene, a questo signore ha risposto molti decenni prima, quasi un secolo prima, un grande intellettuale che è Victor Hugo, e Victor Hugo fa un discorso in Parlamento. Ve ne voglio leggere un pezzetto, dove Hugo, di fronte ai tagli alla cultura, prospettati nel 1848 in Francia, guardate cosa dice. Ma se io voglio ardentemente e appersonatamente il pane per l'operaio, il pane per il lavoratore, che è mio fratello, a fianco del pane per la vita, voglio il pane del pensiero, che è anche il pane della vita. Voglio moltiplicare il pane dello spirito come il pane del corpo. Bisognerebbe moltiplicare le scuole, le cattedre, le biblioteche, i musei, i teatri, le librerie. Bisognerebbe moltiplicare i luoghi di studio per i bambini, i luoghi di lettura per gli uomini, tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni in cui si medita, in cui si istruisce, in cui ci si raccoglie, in cui si impara qualcosa, in cui si diventa migliori. Io penso che questo discorso lo si dovrebbe inscrivere nel Parlamento italiano e negli altri Parlamenti europei. Ebbene, chiudo. Quando io parlo e dico queste cose, molti mi scambiano per un carmelitano scalzo, per un frangescano, c'è uno di questi qua che girano a predicare la povertà, ma io non sto predicando la povertà. Io sto dicendo che in questo Paese abbiamo avuto un signore di nome Adriano Olivetti, che era un imprenditore che scriveva, vi voglio leggere un passaggio, abbiamo portato in tutti i villaggi di campagna, in tutti i paesi della montagna per la prima volta, quelle che io chiamavo un giorno le nostre armi segrete, i libri, i corsi culturali, le opere dell'ingegno e dell'arte. Noi crediamo profondamente alla virtù rivoluzionaria della cultura che dà all'uomo il suo vero potere e la sua vera espressione. Adriano Olivetti non era un imprenditore che rapinava l'azienda truccando i bilanci e portando i soldi nei paradisi fiscali, era un imprenditore dell'utile di un'azienda, che è il giusto e legittimo che ci sia, però quell'utile doveva servire a migliorare gli operai che avevano una biblioteca, che avevano le case, che avevano gli asili nido e doveva servire a migliorare il territorio dove Adriano Olivetti ha fatto costruire il primo piano regolatore d'Italia. Ebbene, quell'imprenditore non era un visionario, era uno che aveva creato il computer che nel mondo, nel mondo, neanche gli Stati Uniti avevano. Noi eravamo i primi con quell'azienda di Adriano Olivetti. Quindi non è vero, non è vero che noi stiamo vivendo una crisi economica, è vero che stiamo vivendo una crisi economica, ma la crisi più forte che stiamo vivendo è una crisi morale. E poi su questo discuteremo. Grazie. Grazie, professor Ordine. Accogliamo adesso Paolo Mieli per l'intervista e poi sapete che possiamo continuare con il professor Ordine, anche con le vostre domande e le domande dal pubblico. Cediamo ora la parola al dottor Mieli. Beh, come esordire? Impossibile non dirsi d'accordo sulle linee fondamentali che bisogna colpire i corrotti e destinare i soldi recuperati dalla corruzione al bene comune, perché tutti possiamo essere più ricchi culturalmente. Di fronte a una argomentazione così forte non possiamo che alzare le braccia e dire certo, ne siamo tutti convinti, ma siccome è una buona legge del mondo moderno che un intervistatore faccia da contraddittore, provi a articolare il ragionamento, vediamo da dove si può partire. Farò fatica per il rapporto di stima, di amicizia e di consuetudine di affetto anche per questo libro, del quale tra l'altro sono l'editore e mi compiaccio del fatto che... Eh no, lo devo dire, perché se no poi viene fuori alla fine e faccio la figura del cioccolataio che era stato qui a fare pubblicità a una sua scatola di cioccolatini, appunto. E allora prova a fare il mio mestiere, prova a fare il mestiere del giornalista che è un contraddittore. Ho letto con attenzione, letto e riletto questo libro e tutti gli scrittori citati, scrittori, artisti, pensatori, filosofi, nati prima dell'età moderna, erano tutte persone che vivevano alla corte dei potenti, dei principi, erano tutte persone che il principe come atto di larghezza, larghezza di vedute, manteneva perché potessero dare lustro alla sua corte. Adesso dico principe, ma possono essere anche uomini illuminati come l'ultimo citato Adriano Livetti. Ma il discorso che pretendi di fare tu è un discorso di carattere più generale, che deve valere per l'oggi. E allora io faccio la domanda più brutale. Tu dicevi, hai cominciato con la domanda, a che serve? Che è la domanda che ti viene rivolta. E io dico, d'accordo sulla tua visione del mondo, ma chi paga? Nel senso che quando, a me capita spesso di fare conferenze pubbliche, quando scendo, trovo le persone più giovani e dico, senta, io vorrei fare un mestiere, vorrei fare... Io, avendo ti sentito comodo, gli dico, faccio il poeta, guardi, tranquillo, coltivi, lei... oppure le piace la musica? Componga delle sinfonie, tranquillo, ma dipinga dei quadri. Prego, arrivederci. Ma non si preoccupa, dice, ma il mercato... No, no, ma che il mercato... Non sentito il professor Ordine. Il mercato, dopo, lei coltivi bene la sua cosa, faccia dei bei poemi e poi vedrà che... Questo discorso sull'inutile, sull'inutile, che davvero condivido dall'inizio, ma si scontra poi con il fatto che la gente deve avere un misuratore. Allora, tu sei un eccellente filosofo, mettiamo che tu stasera a cena, mi confidi di voler comporre delle sinfonie musicali. E dici, sai, io vorrei... Prego, accomodati, fai una sinfonia, ma devi trovare un mondo che sappia misurare e sappia dirti se tu sei un compositore di sinfonie che vale o un mondo... Oppure sei uno che non vale niente. Questo è un discorso per il compositore musicale più complesso, ma voi lo capite bene per i pittori. Quando uno vede un quadro di arte moderna e contemporanea ha sempre l'impressione che avrebbe saputo farlo pure lui, che sono quadri che non capisce bene perché quei quadri quadri debbano avere un valore, essere pagati milioni di euro, mentre quella cosa che lui ha fatto la sera prima a casa non la vuole prendere nessuno. E secondo me il tuo discorso si arriva al punto nodale quando si cimenta con questo tema. E il tema è chi stabilisce cosa di quell'afflato poetico, di quella scrittura di romanzo, di quella composizione di quadri e sinfonie, vale e non vale. Chi lo stabilisce? Chi dice a un giovane, a un ragazzo, guarda che sei sulla strada giusta, stai facendo, hai talento. Ci sono vari misuratori, fra cui uno è anche il mercato. Che vuol dire che lo è il mercato? Questo libro, è un libro che io, che sono presidente della Cata di Ettrice, vengo a presentare perché è un libro che è stato, come vi è stato appena detto, un libro di grandissimo successo e che ha ottenuto, che ha incontrato i favori di un pubblico che è stato disposto a pagare 9 euro quanto costa questo libro per comprare in grandi quantità, decine di migliaia di copie in tutti i paesi in cui è stato tradotto. ma se, ma può darsi, e tu lo devi ammettere come ipotesi, che uno stesso tuo libro, fatto dalla stessa persona, con lo stesso afflato, invece abbia venduto poche centinaia di copie in passato e questa differenza è una differenza sfidando la quale tu hai vinto una partita che non puoi sottovalutare completamente nel fare questo elogio, l'elogio dell'inutile, ovvio che è un elogio estremo per fare entrare un concetto che, come vi ho detto in partenza, io condivido. Ma ripeto, l'inutile, l'inutile è qualcosa, il poter vivere dell'inutile è qualcosa che si conquista nella vita dopo aver praticato le vie dell'utile. Se tu, va bene allora, vivete di inutile, chi? Tranquilli, eh? Nessuno ve lo impedisce. Ovviamente sarà una vita, ma tanto avete l'anima piena, sarà una vita piena di stenti. Si mangia una volta alla settimana, però c'è tanta tanta poesia dentro il cuore e si vive meglio e poi quando arriverà una classe dirigente che ha lottato contro la corruzione e ha recuperato quei soldi che non riesce a recuperare, forse remunererà questa gente. Ma forse in attesa di questa sconfitta mondiale della corruzione è meglio trovare un momento di articolazione fra l'utile e l'inutile che renda più, riporti questo discorso che i piedi per terra. L'obiezione che io ti faccio è che è un discorso meraviglioso, ma aereo e che non si confronta, cioè si confronta con le aspirazioni dell'individuo più colto, più sensibile, ma non si confronta con la vita vera che è tutta un cimento collutile. E allora anche le arti, la ricerca, le cose che tu hai citato nella parte finale del tuo intervento, tu dici le risorse pubbliche devono essere riversate anche in momenti di chiedere, figurati se non sono d'accordo su questo, ma quando parliamo di risorse, quando parliamo di soldi, quei soldi ci deve essere qualcuno che li ha prodotti, guadagnati e siccome immagino che c'è una parte della collettività che lavora per produrre quei valori, perché se no da dove nascono questi soldi da destinare all'inutile e siccome immagino che tu non prevedi una società divisa in disgraziati che sono costretti a lavorare per mantenere voi dell'inutile, perché se no io faccio appello io per i miei figli, i nipoti e tutte le mie figlie, noi stiamo con quelli dell'inutile. Qualcun altro lavori e produca e faccia e noi viviamo lì scrivendo poemi e facendo queste cose? Allora se, ripeto, alla fine del tuo intervento non ti rincontri col momento dell'utile, cioè il momento in cui una società progredisce, diventa adulta, può fare questi discorsi? Falle a fare a Nairobi questi discorsi, vedrai quanto più difficile, se li vai a fare in città più arretrate, se vai nella foresta amazzonica e gli fai, eh, non troverai delle persone che poi appunto alla fine ti chiederanno, dopo essersi appagati dei loro valori, ti chiederanno di andare verso un mondo dove c'è qualcuno che produce delle medicine, dove le cure sono più moderne, dove si può, si possono usare i mezzi di comunicazione più ravi, chi la fa tutta questa parte? E credete veramente che questa parte qui, che è la parte che ha portato alla modernità, sia fatta da dei profittatori insensibili, delle persone che non hanno questi sentimenti verso l'arte, la poesia, la cultura, può darsi, può darsi che abbiate ragione a voi, ma se avete questa sensazione ci sono tanti posti, purtroppo, lo dico dal mio punto di vista, del mondo dove si può stare a fare una vita più semplice, come ho detto, si mangia molto meno, non si sta con i telefonini o con i cellulari e si sta più a contatto con la poesia e molti popoli scelgono di rimanere in quella dimensione, ma ti ripeto, fatti qui, ora, in Occidente, dentro una crisi in cui si misurano, forse per me, prima di tagliare i fondi all'università alla ricerca, taglierei migliaia di altri fondi, però le persone non possono cavarsi dicendo colpiamo la corruzione, perché colpiamo la corruzione, tu devi dire quali altri fondi, in quali altri settori, devi, no, non tu, ma diciamo le persone che si fanno carico di questo discorso, quali altri fondi, dove, dove tagliare e ti dimostrerà, non so, la prima cosa che vi verrà in mente è tagliamo i fondi agli armamenti, ma tu lo sai che quelle ricerche teoriche che giustamente hai citato, che non erano fatte, finalizzate, sono state fatte dentro la ricerca e dentro una cosa, una cosa il cui fine, la ricerca spaziale, la ricerca che ha prodotto internet, è tutta una cosa finanziata dal mondo che alla fine ha a che fare con l'universo delle armi, se tu tagli quei fondi che ufficialmente sembrano fondi per comprare dei mitra o per comprare dei cannoni, tagli la parte più importante, più rilevante della ricerca, perché sono loro che finanziano dei matematici astratti o delle persone che fanno calcoli, che in apparenza sono assolutamente senza capo né coda, per arrivare poi a qualcuno che produca qualche altra cosa, che avrà prodotto qualche altra cosa e alla fine si arriva a produrre la televisione, si arrivano a produrre i palmari, si arriva a produrre internet e così, quindi morale della mia domanda intervento è, non ti sembra che per portarlo a coerente compimento il libro, una prossima edizione del libro, è dove l'inutile rincontra l'utile, dove l'inutile si inserisce, ridiventa quello che vogliono le persone come me, che vogliono popoli capaci di produrre l'utile e con un grande rispetto, una grande coltivazione dell'inutile, cioè che trovino un giusto equilibrio sano in cui progressivamente con l'andare degli anni lo spazio dell'inutile cresca e quello dell'utile si riduca a misura fisiologica, ma la contrapposizione totale e radicale, è ovvio che è un pamflet, è un manifesto e quindi a mera esaltazione dell'inutile contro l'utile rischia di farmi dare quella risposta, vai caro scrivi delle poesie o fai una cosa che lascerebbe male qualsiasi studente incontrarsi scendendo qui le scale. Grazie. Effettivamente Paolo Mieli ha messo nella pentola una serie di questioni che io adesso cercherò di ricondurre per dialogare con lui. Allora, prima cosa, innanzitutto nel mio libro non c'è un'opposizione tra l'utile e l'inutile, perché io non sono uno che vive nel Parnaso, io faccio il professore universitario, mi sveglio la mattina, lavoro, fatico, mi guadagno uno stipendio per vivere. Quindi il problema non è che chi difende la musica, la poesia, eccetera, dice alle persone diventate dei poeti. Io quando vado a sentire un concerto di Abbado non voglio diventare un musicista, però il concerto di Abbado mi dà una gioia, una forza di vivere, mi dà, come dire, il senso della bellezza che permette che la mia vita sia una vita migliore. Quando io vado a sentire le poesie di Montale recitate non voglio diventare poeta, però le poesie di Montale mi aprono uno spazio nella mia vita che mi consentono di capire dentro di me delle cose che io ho e che non riesco a dire e che il poeta che è capace di dire l'indicibile mi dice e che io mi commuovo quando le sento. Quando io vado a vedere un quadro dipinto da Velasquez al Prado, Las Meninas, o vado alla National Gallery a Londra a vedere un altro quadro che mi piace, Gli Arnolfini di Faneic. Ebbene, di fronte a questi quadri non mi viene lo stimolo di diventare un pittore, però questi quadri mi danno un senso di gioia, come un senso di gioia mi dà leggere l'Orlando Furioso, leggere le memorie di Adriano della Jursenar. Allora qual è il problema? È che ognuno di noi nella sua vita deve fare il suo lavoro pensando all'utile, ma oggi il senso del libro è che in questo momento è l'inutile cosiddetto che viene disprezzato. Io non lo chiamo inutile. Il titolo del libro è L'utilità dell'inutile, ma dell'inutile ciò che oggi viene considerato inutile. Se uno legge il libro capisce che noi non possiamo fare a meno della musica, non possiamo fare a meno dell'arte, non possiamo fare a meno della bellezza, ma che sempre di più però stiamo educando delle generazioni che perdono la sensibilità su queste cose, perché l'unica cosa che siamo in grado di insegnare ai giovani è guadagnate come se la dignitas hominis passasse attraverso i soldi che uno guadagna. Questa è la cosa che mi preoccupa e questo mi preoccupa soprattutto quando le strutture educative, come la scuola e l'università, che sono gli unici luoghi dove i ragazzi dovrebbero sentire delle cose alternative rispetto a ciò che noi, rispetto alle dittature delle pubblicità, perché intendiamoci quante cose inutili ci sono e che ci vogliono far passare per utili nella nostra vita. C'è un passaggio bellissimo di Ionesco, poi lo leggerò appena Paolo Mieli va via, Ionesco, no non per questo perché non voglio rubargli tempo e voglio che lui riprenda la parola. Ionesco dice che il problema non è solo di capire l'utilità dell'inutile, ma è di capire anche alcune circostanze in cui c'è l'inutilità dell'utile. Ci vogliono far credere che noi dobbiamo cambiare il cellulare ogni sei mesi, che dobbiamo cambiare le macchine e le automobili ogni tre mesi, che la lavastoviglie dopo due mesi va cambiata perché è arrivata la nuova lastoviglie che tu comandi col fischio fuori dalla porta e quando entri ti ha già lavato i piatti, cioè quante cose sono inutili e che noi crediamo soprattutto in un'accezione consumistica che siano utili. La domanda di Paolo Mieli è giusta, chi paga per dare spazio alla musica, all'arte? Un tempo storicamente c'erano le corti, c'erano gli imperatori, quando Virgilio scrive la sua opera bellissima c'è Augusto dietro. Ebbene quando Lariosto scrive l'Orlando Furioso c'è la famiglia d'Este a Ferrara. Oggi chi ha assunto quel ruolo in una maniera tra virgolette più aperta e democratica perché non sono signori, non sono uomini della guerra? È lo Stato. Ecco perché io ritengo che non solo l'articolo della Costituzione prevede che lo Stato italiano sia il proprietario e il gestore di tutti i monumenti che noi abbiamo, perché questi monumenti sono patrimonio di tutti i cittadini italiani e questa è una cosa straordinaria e noi li dovremmo preservare questi monumenti. Quindi chi paga? Dovrebbe pagare lo Stato, ma lo Stato non dovrebbe pagare per dire ai cittadini, perché il problema non è di dire al ragazzo fai il poeta e di dire al ragazzo leggi le poesie e attraverso le poesie e attraverso il concerto, attraverso la cultura, tu possa diventare un uomo, una donna che impari a ragionare con autonomia nella tua mente. Nell'autonomia e possa ragionare con la tua mente. Vorrei leggervi un secondo però una poesia molto bella che avevo predisposto prima, ma questa la dobbiamo leggere insieme. È il mercato di Piazza Navona e vedo un uomo di chiesa qui nella platea, non ne abbia male perché non è una cosa, i sonetti di Belli erano i sonetti che andavano a colpire la Roma papalina, ma non ha niente a che fare perché se c'è una persona che oggi è un grande stimatore di questo Papa, sono io, Papa Francesco secondo me è straordinario in questa direzione, pur essendo io un non credente, ritengo che le cose che Papa Francesco fa sono delle cose che meritano un'attenzione straordinaria, quindi questo lo voglio sottolineare. Che cosa dice sto sonetto di Belli? È il mercato di Piazza Navona, al mercato ci sono quelli che vengono un po' come a Piazza delle Erbe qui a Padova eccetera eccetera, ci sono i rigattieri, quelli che vendono la frutta, che vendono le cose, ma a un certo punto il popolino dice ma che ci stanno a fare quelli che vendono i libri nella piazza? Vi leggo. Che il mercordì a mercato, gente mia, cesino, ferravecchi e scatolari, rigattieri, spazzini, bicchierari, stracciaroli e tant'artre marcanzie, non c'è niente da dire, ma ste scanzie, da libri e sti libracci e sti librari, che ci vengono a fare? Cosa ci impari da tanti libri e tante librerie? Tu piglia un libro a panza vuota e dopo che l'hai tenuto per quark'ora in mano, dimmi se hai fame o se hai mangiato troppo. Che predicava alla missione er prete? Li libri non son roba per cristiano, figli per carità non li leggete. Ebbene, qual è il senso del sonetto di Belli? Il senso del sonetto di Belli è la ricostruzione attraverso il punto di vista del popolano che pensa alla pancia. Quanti partiti populisti in questo paese spingono in questa direzione? Infatti, Hugo risponde dicendo io voglio dare il pane all'operaio, però gli voglio dare anche il pane per lo spirito, perché se no l'operaio non cresce. Ebbene, l'idea è in fondo che chi gestisce il potere, la cosa che dice, lascia perdere la cultura, lascia perdere i libri. Da sempre è successo così, perché se tu ragioni, se tu diventi colto, è chiaro che la prima cosa che fai è di cominciare a guardare chi gestisce il potere con un occhio critico. Ed è per questo che la cultura fa paura. La cultura fa paura perché la cultura è uno strumento di emancipazione, è uno strumento di libertà. Quindi quando io dico andiamo in questa direzione, difendiamo l'inutile, è chiaro che io non voglio dire che noi dobbiamo smettere di andare a lavorare e di scrivere le poesie e fare i concerti, perché le poesie e i concerti li devono fare le persone che sono in grado di fare poesie e concerti, però ci devono essere le persone che devono ascoltare i concerti e le poesie. Vi do un esempio e chiudo. In Venezuela, Claudio Abbado ha fatto un'esperienza bellissima. Ha preso una cinquantina di ragazzi nelle favelas mezzi delinguenti. Hanno fatto una banda musicale. Questi ragazzi sono delle persone straordinarie. Sono diventati dei grandi musicisti. Ebbene, questo esperimento significa, come baremboim tra palestinesi e israeliani, che c'è questa orchestra mista dove dialogano tra di loro. Ed è possibile fare delle cose anche tra chi come etnie, come popoli si odiano. Sono delle grandi possibilità che l'umanità ha per poter diventare migliore. Questo è il senso delle cose che io voglio dire. Cioè noi non dobbiamo da oggi abbandonare i lavori, le fabbriche, eccetera, e fare tutti i pittori e gli artisti e i poeti. No. Però dobbiamo difendere l'educazione, dobbiamo difendere i valori della cultura che ci aiutano a diventare migliori. E se noi diventiamo migliori e mandiamo nei comuni, in Parlamento delle persone per bene, certamente la corruzione cominciamo lentamente a risolverla, non in un colpo. Ma io non vedo altre strade. Ditemi voi qual è la ricetta. Allora, fatto così il discorso io lo giudico del tutto convincente. Nel senso che il messaggio adesso mi appare più chiaro. Le persone, i ragazzi devono cimentarsi col mondo dell'utile, cioè il mondo della costruzione, del lavoro, del lavoro retribuito, e ricavare, e noi dobbiamo aiutarci a ricavare, uno spazio sempre crescente per l'inutile, visto come non inutile, ma come una zona di alimentazione dell'anima che poi aiuterà anche la parte dell'utile a essere più densa, più degna di essere vissuta. Così direi che il discorso è perfetto. Ma, dovendo fare il causidico e l'avvocato del diavolo, rimane un ma, che è tutta questa parte che tu hai riassunto, facendo l'esempio tra l'imperatore Augusto, la famiglia d'Este, Augusto per Virgilio, la famiglia d'Este per l'Ariosto, e lo Stato oggi. C'è una bella differenza, perché fino a che era la famiglia d'Este o l'imperatore Augusto, finché era un Cesare a fare questa scelta, lui la poteva fare a capriccio, a talento. Diceva, tu sì, noi non possiamo sapere se all'epoca di Virgilio o all'epoca dell'Ariosto ci siano stati poeti maggiori di Virgilio o dell'Ariosto, e lui dice, no, ma quello non mi piace, non gli piace perché gli aveva sedotto una sorella, o perché era antipatico, perché aveva un aspetto fisico scadevole e lui eliminava. Cioè, quello era un mondo, diciamo, fino alla fine del Settecento, dove era tutto riferibile al capriccio del sovrano. Poi c'è stata la rivoluzione francese ed è iniziato un corso di democratizzazione del mondo. Per cui lo Stato, se io divento capo dello Stato e a capriccio dico quello sì, quello no, quello non mi piace e quello non mi piace, in breve mi espellono dal consenso civile. Lo Stato è tenuto a tener conto di tutti e non è ammessa la selezione operata da un individuo che detiene nel potere. Ed è lì che cambia sensibilmente il rapporto che tu descrivi in tinte azzurre per quello che riguarda il passato. Perché cambia? Perché tutti coloro che accedono si sentono in diritto di ricevere sovvenzioni e prebende perché tutti quando scrivono un poema o scrivono una sinfonia o dipingono un quadro pensano, parliamoci chiaro, pensano che questo è molto meglio della sinfonia che ho sentito ieri sera in una sala di concerto e quindi solo l'ignoranza di chi ci comanda non fa sì che questo mi riempia d'oro e me ne faccia scrivere di tante. E questa cosa produce addirittura, cioè questa produce un flusso inverso a quello che dicevi tu. Hai citato più volte Abado che è scomparso, che è stata sicuramente un direttore d'orchestra che ha illustrato la storia d'Italia. Ce n'è uno che è vivo, Muti. Allora Muti è il più grande direttore d'orchestra insieme a Abado e come voi sapete recentemente ha dovuto abbandonare il Teatro dell'Opera di Roma perché gli orchestrali e i cori del Teatro dell'Opera di Roma, che sono anche loro musicisti, fanno parte della tua categoria, pretendevano di, pretendono tuttora perché l'opera è paralizzata, di essere pagati ogni volta che muovono la testa per assecondare, guarda non sto scherzando, sono per assecondare il coro, se vanno a suonare all'aperto, cioè pretendono, hanno la pretesa, sono sindacalizzati e chiedono di essere compensati per ogni passaggio di cosa che fanno al di fuori di quello che sono tenuti strettamente a fare. E non essendogli riconosciuti, perché viviamo in un periodo complicato che vi è noto, questi che sono musicisti e artisti al pari di Muti nel nostro modo di ragionare, hanno bloccato, fatto sciopero, gli hanno fatto saltare delle prime, gli hanno reso il clima impossibile, per cui Abba ha detto, amici miei, vi saluto, siete molto simpatici e vado a dirigere. Non è andato però a Nairobi, è andato a dirigere a Chicago, cioè nel centro di quel mondo che qui sembra essere il mondo del demonio, no, la vita è andata a dirigere a Chicago perché a Chicago il rapporto fra stato e orchestrali è un rapporto più virtuoso e si riesce a fare meglio. Ragion per cui si ha il paradosso da una vicenda specifica, ti ripeto, non è andata a mettere sull'orchestra delle favelas, anche se anche Muti ha preso dei ragazzi molto sfortunati e ha composto con loro un'orchestra che è splendida e questi gli sono grati, non gli fanno le questioni che gli hanno fatto gli orchestrali di Roma e sono degli abbadiani nati come erano, cioè dei mutiani nati come erano abbadiani quelli che tu hai descritto e davvero vivono per un'esperienza musicale. Ma lo Stato che paga, la comunità che paga è quella che è costretta a cimentarsi con un rapporto sindacale di forza con quegli orchestrali che ripeto sono artisti, hanno cominciato, suonano, suonano il violino, hanno pensato alla loro vita esattamente nei termini in cui lo pensava Ariosto, Virgilio, Chopin, Stockhausen, uguali e che sono arrivati ad avere un rapporto esigente con la comunità a cui la comunità non può dare una risposta che è sempre il morale di questo discorso. Facile farlo per Abbado, per Muti, per Beethoven o così, più difficile è quando tu trovi, quando tu ti cimenti con l'intellettuale medio che ritieni, il cineasta che ritiene di avere diritto di ricevere sovvenzioni per fare dei film che poi nessuno vedrà e che giacciono, oppure il teatrante che ritiene di ricevere sovvenzioni, l'autore, insomma c'è un'attività, adesso parlo un secondo solo, ma davvero un secondo di me, ma c'è un'attività che è quella di chi seleziona i libri da pubblicare e da non pubblicare. Ora, chi fa il mio lavoro crea, uno scherzo, una trentina, quarantina di infelici al giorno, di persone che ti odiano perché vengono, ti presentano un prodotto, io prodotto uso apposta una parola economica di quelle che sono scartate da… Io penso che questa cosa possa avere minore fortuna del libro di Nuccio Ordine e dico guardi, provi con un altro editore e lui lo vede uscire pensando questo, l'avrà pagato la CIA, il Mossad, Gladio e cosa per dirmi di no e non riconoscere un talento che è evidente. E allora io a questo punto faccio un gioco, consentitemi un gioco, che per fortuna noi viviamo nel mondo di internet. Nel mondo di internet voi potete comporre una sinfonia, andare su YouTube e chiunque può ascoltare la vostra sinfonia sempre che avete messo insieme, un insieme che la suone, potete comporre un libro e ve lo pubblicate da voi, ve lo pubblicizzate, se è vero almeno uno una volta su mille, uno su una volta su centomila dimostrerà che è vero e quindi ci sarà un libro che tutti gli editori o gran parte hanno rifiutato e che poi va su internet da solo, ci metterà un anno, ci metterà due anni, si fa conoscere e tutti si inchinano. Come mai non è accaduto? Come mai senza la mediazione di quei loschi mercanti di cui io faccio parte, che sono i selezionatori, che sono quello che possa funzionare e così nessuno ha trovato, adesso qualcuno si alzerà che c'è stata un'eccezione di uno che ha composto una canzone o così, è andato su internet e ha trovato la fortuna che nell'industria musicale non ha trovato, ma nel mio mondo per esempio quello dei libri non è mai accaduto, non è ancora accaduto, eppure internet c'è da molti anni la possibilità di diffondere ai testi e il passaparola come funziona per i libri, perché non crediate che basta pubblicare un libro e un libro che abbia accaduto. Ci sono tanti libri che non vendono affatto e poi ce n'è uno in cui il passaparola, per esempio quello di Nuccio Ordine, è stato un libro che molto ha funzionato con le sue apparizioni televisive, ma molto di più ha funzionato il fatto che la gente si passasse parola e dicesse questo è un libro e lui lo sa, noi ne conosciamo molti casi, se funziona così potrebbe funzionare anche su un libro pubblicato da un autore a sua spesa, come mai non è accaduto? Non è accaduto perché il mestiere che fanno i mercanti, cioè quelli che sono sensibili alle ragioni, alla selezione del mercato, come i mestieri che facevano quelli delle corti, che selezionavano da Virgilio, dall'autore che non è passato, o Ariosto che non è passato, ha un senso e quindi l'utile e l'inutile torniamo al... si intrecciano non solo nel fatto che noi dobbiamo concepire una vita dove l'inutile affianca virtuosamente l'utile, ma anche per la selezione dell'inutile introdurre dei criteri che hanno relazione al mondo, lo dico nella maniera più provocatoria, del denaro, del vendere, del vendere biglietti, del trovare risorse che alimentino la cultura, che alimentino la cultura per una partecipazione di persone, perché questo è il denaro che sono disposti a pagare, cioè a versare una quota di quello che hanno guadagnato facendo dei lavori faticosi per alimentarla, ha un suo senso. Senza quello, cioè un mondo della cultura affidato allo Stato che paga indistintamente come paga gli orchestrali riottosi di Mut, senza quello non si arriva alla definizione delle gerarchie, di quello che vale, di quello che non vale, tutto entra in un mondo indistinto. Se per paradosso lo Stato, la società, una cata di editrici fosse costretta a pubblicare tutti i libri di coloro che sentono di avere talenti a pubblicare, il risultato sarebbe che noi, voi, non sapreste qual è un libro da leggere, non sapreste qual è. E un'ultima cosa vi dico, quando sempre il gioco di intere, quando vengono da me gli autori, con tutti, io faccio sempre, è un gioco che mi serve a capire la sua sensibilità, prima l'ascolto, poi l'ascolto e poi anche se è uno che vale, so che è quel libro, gli faccio questa proposta. Senti, ma perché non lo pubblichiamo online, perché online ha questi vantaggi, costa infinitamente meno, si fa subito, cioè tu lo consegni la sera, la mattina dopo è edito, noi lo accompagniamo da una campagna promozionale e tu, e lo vedo sbiancare, perché l'oggetto è sacro, l'oggetto libro è sacro, è la cosa che ha fatto la nostra fortuna, le cade editrici di libri hanno resistito, non ci ordino, sa molto meglio di quelle che producono giornali, perché mentre un giornale più o meno di carta, io le preferisco di carta per ovvi motivi, anche generazionali, ma se uno si abitua a leggerli online, a leggerli sui siti, insomma più o meno ha lo stesso tipo di cose, invece un libro è un oggetto, è una cosa che si tiene lì, che non si deve deteriorare, che uno ci torna, insomma è un patrimonio, una cosa che esiste dagli incunaboli, esiste da duemila anni e forse più. Ecco, il lavoro di chi fa quel libro, il lavoro di chi produce quella cosa, è un lavoro che gli stessi autori sono disposti a riconoscere, nessun autore finora mi ha detto, ma neanche i più illustri, quelli sicuri, ma sì, andiamo solo sull'online e saltiamo la fase del libro di carta e questo dimostra che l'autore, il filosofo, lo scrittore, il musicista, il cineasta, anche il più pregiato, desidera a un certo punto, ha necessità di reincontrarsi col mondo dell'utile, perché il mondo dell'utile è il mondo, il mondo dell'utile è virtuoso ovviamente, è il mondo che dà la definitiva consacrazione dell'inutile e quindi c'è un doppio intreccio che vi raccomando nel leggere di questo libro, che è un libro, non ve lo dico da editori, questa volta consentitemi, mi spoglio dai miei panni, è un libro veramente che merita di essere letto, divorato dall'inizio alla fine, ma sempre tenendo in mente che da un incrocio fra utile e inutile si parte e a un incrocio fra utile e inutile si arriverà sempre. Grazie. Devo andare via ma mi interessa troppo sentire quello che risponde. Allora, io risponderò velocemente a Paolo Mieri perché non voglio intrattenerlo di più. Allora, punto numero uno, anche qui bisogna fare una distinzione tra due ambiti diversi. È un conto che lo Stato si occupi di dare un sostegno alle filarmoniche, ai teatri d'opera e un altro conto è che chi nello Stato decide quando deve creare e trovare un direttore d'orchestra, anziché prendere a bado, prende il cugino che abita al piano di sotto e quindi i soldi sono buttati a mare. Lì è un altro ragionamento, ma qui non è la colpa dello Stato e non è neanche il fatto che è sbagliato che lo Stato si occupi di queste cose tra virgolette inutili. Non mi risulta che la filarmonica dei Berliner che storicamente sceglie i migliori musicisti, i migliori direttori d'orchestra, eppure praticamente la Germania è un paese che può fare scuola su queste cose, ma anche l'Austria e via dicendo. Allora, qual è il problema di questo paese? Non è che è sbagliato che lo Stato dà dei soldi all'opera di Roma, è sbagliato se l'opera di Roma, anziché prendere dei musicisti di valore, prende dei cialtroni. Sono cose diverse. E chi è che in genere gestisce queste cose? Sono quegli uomini che dovrebbero rappresentare lo Stato, che anziché scegliere in nome dell'interesse comune, scelgono in nome dell'interesse privato. E questo è il dramma con cui il paese si deve misurare. E allora vi faccio un esempio. Io giro un po' il mondo per il mio lavoro. Voi sapete quanti direttori di istituti italiani di cultura semi-analfabeti abbiamo noi? Ma tantissimi ne abbiamo. Ne abbiamo tanti bravi, ma anche tanti semi-analfabeti, perché poi ti interroghi quella chi è? È la cugina dell'ambasciatore, eccetera, eccetera. Quell'altro chi è? È il nipote dell'onorevole X. Quindi quando uno manda in un posto, che dovrebbe essere la vetrina culturale del paese, uno che non sa parlare la lingua, che ti fa fare una brutta figura, che non sa fare le scelte che deve fare. Tu affossi un paese, ma molte persone questo paese lo affossano, perché il dramma di questo paese è che noi non abbiamo servitori dello Stato in molti posti chiave, ma abbiamo persone che vanno e usano lo Stato per fare i propri interessi. Ritorniamo al punto di prima. Come la formiamo una generazione di servitori dello Stato? Su quali valori? Dicendo ai ragazzi a 13 anni cominci a imparare un mestiere, devi fare i soldi, devi entrare in banca, devi fare quello, devi fare quell'altro, o facendo studiare ai ragazzi alcune cose in cui i ragazzi possano capire che l'onore, la dignità dell'uomo vale molto di più del danaro che uno può avere. E l'altra cosa che dovremmo far capire, ma l'unico luogo dove lo si può far capire ai ragazzi è che nelle aule universitarie, nelle aule di liceo dovrebbe accadere un miracolo ogni santo giorno. E qual è questo miracolo? Che praticamente con i soldi oggi si può comprare tutto. Con i soldi si comprano i giudici, si comprano i parlamentari, si compra il successo. In questo paese abbiamo tanti processi su questo tema, ma una cosa con i soldi non si compra. E qual è questa cosa? È il sapere, è la conoscenza. Perché non si compra con i soldi? Perché come dice Platone, come dice Bruno, come dice Montaigne, se tu vuoi conoscere devi fare uno sforzo che nessuno può fare al tuo posto. O lo fai tu o rimani un ignorante. Se tu fai il trota che comprandoti la laurea in Albania pensi di diventare un uomo colto, ignorante eri e ignorante rimani. Questo è il senso del ragionamento. Ma questa dovrebbe essere la battaglia che noi dovremmo fare. Ecco perché la cultura può essere una forma di resistenza alla dittatura dell'utilitarismo che non significa, lo ripeto, disprezzare l'utile. Neanche Olivetti disprezzava l'utile. Però l'utile Olivetti, da buon imprenditore, lo investiva per migliorare gli uomini. E lo faceva con intelligenza, perché Olivetti non faceva beneficenza. Quando Olivetti faceva le fabbriche belle, con la luce, fatte costruire dei migliori architetti, quella bellezza rendeva gli operai di Olivetti tre volte più produttivi degli operai che lavoravano nei posti neri e, come dire, reietti di qualsiasi fabbrica che uno poteva avere. Quando Olivetti va a Napoli e sceglie i luoghi dove costruire la sua fabbrica, scegli un posto dove tu ti affacciavi e vedevi il mare, vedevi il golfo di Napoli. Ma questo che significava? Significava che la bellezza è una forma di gioia interiore che dà forza, che crea un senso della comunità. Olivetti non era un francescano che regalava i soldi. Faceva l'utile, ma quest'utile non lo concepiva come i soldi che tu derubbi alla tua azienda truccando i bilanci. E io qui si discute tanto di articolo 18, ma ancora non è stata approvata la storia del falso in bilancio. Questo è il tema, perché questo è un Paese dove un imprenditore come la Parmalat che si permette ancora di girare, uno che ruba in America si fa 30 anni di prigione distruggendo un'azienda. Non qui praticamente che succede che uno riapre un'altra fabbrica dieci giorni dopo che ha rubato. Allora, questo è il tema di fondo. Come riuscire a creare una generazione di imprenditori che amano la solidarietà umana? Perché è chiaro che noi non possiamo rimanere anche indifferenti a quello che accade intorno a noi. Quello che sta accadendo nel Mediterraneo è una cosa che ci riguarda. Vedere quella povera gente che disperatamente chiede di avere una vita migliore non è una cosa che noi possiamo ignorare. E tutte le strumentalizzazioni che si fanno da parte di partiti politici che parlano alla pancia della gente dicendo no, a noi non ce ne frega nulla se quelli si affondano nel Mediterraneo perché non abbiamo i soldi per poter proteggere. Bene, questi discorsi sono discorsi che creano una umanità disumana. Noi dobbiamo puntare a un'umanità più umana. Io penso, io sono nato in un piccolo paese del sud, in una famiglia di genitori che non hanno studiato. Mio padre e mia madre hanno la terza media. In una casa dove non c'era un libro. Se io nella mia strada di un paese dove non c'era una biblioteca, un cinema, non c'era niente, non avessi trovato dei professori alla scuola elementare, alla scuola media, al liceo, all'università che mi avessero incoraggiato a leggere, che mi avessero invitato a diventare migliore, io oggi non sarei quello che sono. Io penso che ancora un buon professore, un buon libro, un buon concerto può cambiare la vita di una persona. C'è una testimonianza, c'è una testimonianza bellissima di Massimo Recalcati, che io non sapevo. Ha scritto un libro da Inaudi, un'ora di lezione e Massimo Recalcati dice, io facevo la scuola agraria. Massimo Recalcati frequentava la scuola agraria. Ebbene, alla scuola agraria lui ha trovato una maestra che gli ha fatto amare la letteratura, che gli ha fatto amare la cultura. Oggi Massimo Recalcati è uno dei più grandi psicoanalisti italiani. Cioè questo è un senso. Io penso che la cultura può combiere questi miracoli, ma se noi sfasciamo la scuola, se noi sfasciamo l'università e se noi sfasciamo anche l'editoria, caro Paolo, perché oggi tu lo sai meglio di me, l'editoria, e qui ritorniamo al tema del mercato, io non sono sicuro che il mercato abbia sempre ragione. Cioè io dico che il successo del mio libro è un puro caso. Io non ho scritto un best seller, io ho scritto un libro da professore che sentivo di scrivere. Poi è andata così, tanto meglio. Ma anzi, a volte mi viene pure il dubbio, perché insomma io ho sempre pensato che il mercato non è vero che selezioni le cose migliori. Non è vero. Noi vendiamo tanta paccottiglia e poi che i grandi scrittori si siano visti rifiutare dei romanzi. La storia della letteratura è piena. La recherche di Proust. Proust ha dovuto penare per farsela pubblicare. Poverino, è stata rifiutata da tantissimi editori. Però veritas filia temporis. Poi Proust pubblica la recherche e la recherche è rimasto uno dei grandi romanzi che magari quei romanzi pubblicati allora sono spariti dalla circolazione. Quando i best seller che hanno successo a milioni di copie, dopo un anno, due anni, nessuno sa più che cosa sono. C'è una frase bellissima in Tocqueville che dice le società industriali amano le beauté facile, le bellezze facili. E cosa sono le bellezze facili? Sono le bellezze che non richiedono sforzi, che non ti fanno perdere tempo e che non ti lasciano nulla. Ebbene, noi dobbiamo batterci contro le beauté facile e nelle case editrici oggi, purtroppo, sempre di più chi gestisce, non sono manco i lettori acuti come Paolo Mieli, che sanno selezionare. Sono spesso i signori del marketing. E sapete i signori del marketing da dove vengono? Un signore che è venduto fino all'altro giorno le acque minerali o le birre e che deve venire a spiegare a me se una collana di classici si vende o non si vende. Questo è il punto su cui poi dovremmo fare anche i conti. Però il mercato non decide della qualità di un prodotto. Io su questo sono fermo. Se la qualità del mio libro dipendesse dalle copie vendute, io sarei offeso da questa cosa. La qualità del mio libro è quello che il lettore mi dice. Questo libro l'ho letto, mi ha entusiasmato, mi ha fatto riflettere. Bene, se ho potuto dare un piccolo contributo, questo può essere forse la cosa più bella che io ho potuto fare. Grazie. Questa interessantissima e inutile conversazione si deve purtroppo interrompere perché Paolo Mieli ha un'auto che l'aspetta. Io ascolterò l'inizio del dibattito dalla sala e poi me ne andrò prima, mi scuso. Anche qui è stata una serata bellissima. Avete visto che non abbiamo fatto un dialogo tra complici ma abbiamo provato a mettere in scena un contraddittorio. Sottoscrivo le cose che ha detto Lucio Ordine. tranne quella finale sul mercato e il suo libro. Compratelo, questo libro che ne vale la pena. Qua il mercato premia il grande filosofo e quindi fate un'eccezione. Lui lo dice per grandezza d'animo ma poi gli fa piacere anche a lui, io lo so, quando il mercato gli viene incontro. Non ve lo dirà mai ma è così. Ciao Paolo. Grazie a Paolo Mieli. Grazie. Noi continuiamo adesso la nostra conversazione con voi ma devo dare un utile messaggio che è la classica macchina da spostare. C'è da spostare una macchina, si tratta di una Citroen C2 grigia che ostruisce il passaggio a un'altra macchina di un nostro ospite che vorrebbe uscire. è targata CS664RV. Quindi Citroen C2 grigia. Vedo qualcuno che si alza, spero che sia la proprietaria. Bene. Allora noi professore possiamo aprire il dibattito o vuole qualcosa da aggiungere? Penso che ho già parlato troppo forse. Allora benissimo, lì c'è una domanda, adesso arriva subito. È già pronta. Bene, le chiedo prima di tutto se preferisci raccogliere qualche domanda insieme. Per esperienza mi è capitato che poi delle domande siano legate tra di loro, quindi per dare parola a più persone preferisco che siano fatte 3-4 domande e poi io rispondo collettivamente. Bene, allora 3-4 domande. Prego signora, se ci volete dire il vostro nome anche ci fate. C'è Zanarella, sono un'insegnante di educazione fisica in pensione e sono andata in pensione nel 2002 perché offesa dalla riforma berlinguer sulla scuola che metteva i professori l'un contro l'altro per 10 euro al mese e una scuola contro l'altra per accattivarsi i clienti. Questa cosa mi ha offeso l'anima, io sono di sinistra, non ho retto, ho detto se la sinistra non capisce la scuola, non ci siamo. Non ho finito l'anno, ho fatto un coma da stress e sono qui adesso. Però voglio dire al professore, la ringrazio perché in 12 anni è la prima volta che mi sento confortata, pensavo di essere una scema del villaggio che era uscita dalla scuola per paturnie sue. Però lei è calabrese, giusto? Io maestra ho fatto un concorso a Reggio Calabria perché teorizzavo che se gli insegnanti del nord vengono al sud e quelli del sud vengono al nord riusciamo a mettere insieme le cose positive di questa Italia che sono tante. Credo che il problema e non viene fuori è che come educarci al principio di responsabilità oltre che alla bellezza e all'etica. Ma le chiedo, lei personalmente che cosa ha fatto e che cosa fa per il villaggio dove è nato e per la sua Reggio Calabria che ha bisogno di crescere in responsabilità come noi veneti? Grazie mille. Questa è la domanda, perfetto. Cerchiamo di fare domande sintetiche, mi raccomando. Chi vuole aggiungersi? Una domanda sintetica. Preferiamo le domande in genere, però se vuole dire tre cose sintetiche. Scusate, faccio sempre un po' il vigile. Voglio che il professore mi dia risposte perché praticamente voglio dirgli che l'Italia non è mai stata terra di rivoluzione. Finalmente abbiamo un rivoluzionario vero perché è una rivoluzione delle menti di tante cose e mi ricorda parlando di Montale quel verso dove dice è il prodigio che dischiude la divina indifferenza. Lei è questo. Perciò mettiamola come diceva Gramsci, la storia insegna ma non ha scolari. Faccia in modo di avere tanti scolari perché noi faremo tantissima una catena di solidarietà perché è di lei delle cose che ha detto, che ha scritto che abbiamo bisogno. Perciò la ringraziamo infinitamente. Grazie. Grazie. Ha trovato una sostenitrice molto convinta. Signora, poi le darò un bacio perché qui... Sì, l'ha sentita. Prego. Professore, buonasera. L'altra domanda e vado subito al sodo è questa. Nel, diciamo così, finta di atriba tra lei e il dottor Mieli emergeva il convitato di pietra che era lo Stato. Il convitato di pietra perché sostanzialmente è quello che dovrebbe mettere in condizioni il sistema paese e quindi i cittadini non tanto di disquisire su cosa è utile e cosa è inutile ma dare gli strumenti perché l'inutile diventi utile. Allora le chiedo questo. Questo convitato di pietra che in questo paese poi pesa tanto perché se noi investiamo lo 0,3,2 per l'istruzione vuol dire che siamo morti, no? La Germania fa 1,8 e noi 0,3 del prodotto interno lordo. Le chiedo in che modo si può far capire a chi amministra la cosa pubblica che la sfida vera è culturale e la sfida vera è l'innovazione ma l'innovazione senza la cultura che è proprio l'inutile come da lei descritto non porta da nessuna parte. Grazie. Grazie, è molto chiara. Ne prendiamo un'altra professore? Sì. Un'ultima direi, poi dopo magari facciamo un altro giro. Sì, grazie. Buonasera professore, sono emozionata perché faccio parte della fondazione Adriano Olivetti, io sono piemontese e di conseguenza quello che ha detto lo posso confermare. Primo. Poi ha citato Claudio Bado. Io vengo da una famiglia piemontese che mi hanno insegnato veramente diversificare chi conosce la musica, chi ama la musica. È un buon libro, non è mai solo nella vita. Grazie e io sarò anche alla prossimo suo venire qua. Sono proprio soddisfatta e contenta. Grazie infinite professore di quello che ci ha detto. Grazie a lei. Quindi un'altra sostenitrice. Forse possiamo prendere un'altra domanda proprio. Se avete una domanda puntuale c'è una signora, eccola qui. Grazie. Se vuole dirci come si chiama. Mi chiamo Marielda Muzzani e volevo dire che mio marito e Dio abbiamo creduto nei miracoli per cui abbiamo educato i nostri figli all'amore della cultura. Però adesso quando io vado a casa che ho un figlio di 32 anni che ha creduto tantissimo ai miracoli e ha voluto fare non il poeta come lei magari, non dico consigliava, ma ha voluto fare l'attore e vorrebbe fare l'attore non il cameriere attore, l'espediente, l'uomo che vive di espedienti e qualche volta riesce a fare l'attore. Io adesso vado a casa e che cosa gli dico? Veramente faccio fatica in un mondo come quello di oggi a trovare un senso nel mio essere una madre e un padre, mio marito, che hanno creduto nella cultura, nel bello, in tutto ciò che lei ha detto prima. Che continuiamo a crederci, però è un po' più difficile. Grazie. Grazie. Citava Locke. Sì, adesso partiamo. Bene, prego. Bene. Allora, partiamo dalla prima domanda. La signora mi chiedeva lei cosa ha fatto come contributo personale. Bene, io non so, perché non spetta a me è stabilire, diciamo, la positività o la negatività di ciò che io faccio, ma l'unica cosa che le posso dire è che io cerco di fare il professore con passione e con impegno civile. Cioè io cerco di far capire ai miei studenti che la letteratura, se non provoca in noi una metamorfosi interiore, da farci diventare delle persone per bene, studiare non serve a niente. Questa è la prima cosa che cerco di insegnare ai miei studenti. Ora, è chiaro che io, nell'itinerario mio personale, a un certo punto ho dovuto prendere la valigia e andarmene dalla Calabria. L'ho dovuto fare perché non c'erano in Italia, in generale, posti di lavoro. Io appartengo a quella generazione che si è laureata dopo il grande sfascio del 1980, dove nell'università con un'opelegis sono entrati migliaia di analfabeti, come ricercatori, professori, eccetera, eccetera, a volte senza titoli e che noi oggi continuiamo, fino a poco tempo fa, abbiamo continuato a pagare negli stipendi, eccetera. Ecco, quello che io so è questo, che noi dobbiamo fare un paese in cui la selezione sia rigida e rigorosa, ma nello stesso tempo noi dobbiamo dare delle opportunità anche agli insegnanti delle scuole, perché non è giusto che in un paese come l'Italia i concorsi siano ogni dieci anni e che uno si trovi a 53 anni a essere ancora un precario. Questa è una cosa che non consente alla scuola e all'università di funzionare. Io ho avuto tante offerte di lavoro in altre università, ho scelto di rimanere in Calabria, anche perché in Calabria c'è il sistema dei semestri, quindi io posso insegnare nel mio semestre e poi nel semestre in cui non insegno posso studiare nelle grandi biblioteche e nelle grandi università europee per scrivere i miei libri. Ebbene, quello che io dico è che oggi gli studenti chiedono professori che insegnano con passione, perché se un professore non insegna con passione non si può trasmettere ai propri studenti la passione. Se tu non ce l'hai, loro non ce l'avranno. Quindi questa è la cosa che le posso dire. Quello che faccio in Calabria è, mi è capitato di vedere in tante realtà più sofferenti dell'Europa, io ho insegnato in Romania, ho insegnato in paesi anche poveri dell'Europa, ebbene vedo che ancora i ragazzi quando vengono all'università il professore, non è solo il professore, è un punto di riferimento, ti chiedono cosa posso leggere durante le vacanze di Natale, cosa posso fare, vengono al ricevimento e ti parlano dei loro problemi. Bene, il nostro ruolo è più di un professore, è il ruolo di qualcuno che sta in un territorio dove l'università e la scuola dovrebbero essere i presidi di legalità, visto che i presidi di legalità purtroppo non ce ne sono in nessun altro posto, e invece purtroppo non è sempre così. La scuola e l'università non rispecchiano questo tipo di situazione, per cui noi dovremmo batterci insieme per cercare di creare una scuola e una università e un sistema educativo migliore. Ringrazio la signora generosa, prima che insomma io non mi sento un rivoluzionario, ho un passato di militante nella sinistra dove da ragazzo nel mio paese pensavamo che bisognava battersi per difendere i deboli, per difendere gli oppressi, per cercare di cambiare le cose. In quegli anni ho imparato, indipendentemente dagli errori che ho potuto fare, ho imparato una cosa importante, ho imparato che significa la gratuità e il disinteresse, che sono due parole espunte dal nostro vocabolario. Ho imparato che tu puoi stare un giorno a fare una cosa senza portarti a casa nulla, perché l'hai fatta per gli altri. Questa è una cosa che ho imparato da quella militanza, è quello che cerco di fare anche oggi nel mio insegnamento. Il collega che è intervenuto prima, perché credo che sia un collega che insegna forse, no, no, va bene, allora, perché era molto ben precisa la domanda, l'innovazione senza la cultura, come facciamo a farlo capire ai politici? È difficilissimo, io lo so, è difficilissimo perché noi abbiamo una classe politica che sembra di più, è una classe politica che degrada, è una classe politica incolta, è una classe politica che praticamente non ha una base reale di dialogo. Però purtroppo non abbiamo altra scelta, dobbiamo continuare a batterci, non tanto per far capire a questa classe politica, dobbiamo continuare a farlo per quello che possiamo, ma soprattutto dobbiamo pensare a un progetto di lunga durata, come formare quei giovani che diventeranno la classe dirigente di questo Paese. Ecco perché io dico che da lì bisogna partire, dall'istruzione, dalla scuola e dall'università. La musica, ringrazio la signora, mi ha fatto commuovere quando mi ha detto che partecipa alla Fondazione Olivetti, le posso dire una cosa, io quando leggevo le cose di Olivetti mi mettevo a piangere. Anzi, una cosa, solo chi ha potuto e che può veramente constatare quello che ha fatto, io appena laureata lui cosa ha fatto? Innanzitutto nell'azienda i corsi di formazione, perché noi dobbiamo sia per l'azienda i corsi di formazione, ma niente meno, niente meno tutte le famiglie di estate in Toscana, io appena laureata ho fatto un corso e l'ho conosciuto personalmente emozionante. Io credo importante che Veneto sia veramente riconoscente a questo grande uomo che ha lasciato, non per quello che era, ma per il suo cuore, ed è questo quello che dovremmo lasciare noi, non quello che rappresentiamo, ma con il cuore, questo è importante. Allora, le dico, io quando leggo i libri di Olivetti, che purtroppo non va di moda in Italia, perché adesso li stanno ristambando, ma non si trovavano più, a me viene da piangere a pensare che ci sia una persona che abbia avuto questo coraggio e questa forza lungimirante di fare queste battaglie, ma vorrei regalarle una citazione sulla musica, in un testo bellissimo di Shakespeare, che la scena è a pochi passi da qui a Venezia, il mercante di Venezia, c'è nel regno di Belmonte, c'è una riflessione sulla musica molto bella che io leggo sempre ai miei ragazzi. L'uomo che non ha musica in se stesso, né è commosso dal concerto dei dolci suoni, è adatto ai tradimenti, agli inganni, alle rapine. In lui i moti del cuore sono spenti come la notte e gli affetti scuri come l'erebo. Non fidarti di un tale uomo, ascolta la musica. Ecco, io penso che una cosa del genere è commovente, ma ti faccia capire come un classico può generare dentro di te un processo di riflessione su alcune cose. La signora che mi parla del figlio, signora la sua condizione è una condizione generalizzata. Io ricevo migliaia di ragazzi, insegno da 26 anni, ho avuto la fortuna di cominciare giovane, ricevo migliaia di ragazzi che vengono da me e mi chiedono, professore ma adesso cosa posso fare? Certo è difficile dare una risposta, però le voglio dire una cosa, le voglio leggere un passaggio molto bello di Italo Calvino, è un romanzo che io ho amato e che mi ha accompagnato sin da ragazzo nella mia vita. Sono quelle letture di cui tu poi non puoi fare più a meno, che rimangono dentro te stesse, diventano sangue. Ebbene c'è questo romanzo bellissimo intitolato Le città invisibili, dove sapete tutti, è un romanzo celebre, dove è un dialogo tra Kublai Kahn, il grande conquistatore, e dall'altra parte Marco Polo, il vostro veneziano. Marco Polo viaggia, il Kublai Kahn conquista, Kublai Kahn aveva conquistato città e stati che fino allora erano imprevedibili come tipo di estensione e di conquista, ma Kublai Kahn non conosce le città che il suo esercito ha conquistato. Marco Polo ne visita alcune, ritorna alla corte e racconta queste città a Kublai Kahn. In uno di questi bellissimi scambi e dialoghi a un certo punto c'è una riflessione sull'inferno che vi voglio leggere. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo noi tutti e che formiamo noi tutti, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Cara signora, l'unica cosa che noi possiamo fare è di continuare a dire ai nostri giovani, cercate ciò che nell'inferno non è inferno, per farlo durare. Vediamo se c'è qualche altra domanda, siamo quasi sulla via della chiusura, quindi se qualcuno vuole approfittare. Sì, eccola qua, una signora a cui lasciamo la chiusura. Altre domande? Allora prendo quest'ultima e poi ci salutiamo. Prego. Una breve domanda, mi chiamo Luisa, lavoro nel sociale, sono un'educatrice. Lei ha detto diverse cose che mi hanno... Un'educatrice nel sociale. Ci sono diverse cose che mi hanno sollecitato, anche il fatto che effettivamente attraverso le emozioni, emozionarsi noi stessi per primi di questi saperi inutili che... Anch'io non sono d'accordo sulla distinzione utile e inutile perché è sempre un incrocio utile il fatto che si intersechino fra loro. Però è vero che emozionandoci noi, trasmettendo proprio per contagio di testimonianza ai ragazzi riusciamo a forse a tentare una breccia in questo senso di passione per l'inutile. Se posso dire una definizione così, che mi è venuta ascoltandola con un pensiero sottile in termini di tempo, ecco, direi che se l'utile ci aiuta a cosa fare nel mondo, l'inutile ci dice invece come stare al mondo, lo stile con cui possiamo fare le cose, che è anche quello dell'etica. Le volevo suggerire una riflessione che continua la sua e sarebbe anche interessante vedere cosa noi riduciamo all'utile e invece per sua natura non dovrebbe essere tale, che a volte sono proprio le persone, gli animali, eccetera, che invece io passerei da un'ottica di utilità a un'ottica di relazione, dove c'è un riconoscimento della soggettività dell'altro. Secondo me anche questa è una cosa... Noi oggi abbiamo parlato di utili... Sì, sì, provo a tenerlo forse più lontano. Oggi abbiamo parlato di utilità e inutilità dei saperi, poi questi saperi anche hanno degli oggetti, dei destinatari, producono conseguenze, no? Ecco, allora mi viene da dire che anche a volte noi, cioè le proponevo una riflessione anche che continua la sua, dove ad oggetto di utilità e inutilità non c'è più il sapere ma i soggetti. Perché a volte noi riduciamo ad utilità i soggetti, come le persone oppure gli animali. Pensi al trattamento che noi facciamo degli animali senza riconoscerne nessuna soggettività. Oppure anche delle persone stesse, a volte anche, vi faccio un esempio per tutti, la persona anziana a volte è oggetto di utilità dei servizi e non è riconoscimento pieno. E a volte noi facciamo fatica nel sociale a portare avanti quest'ottica di riconoscimento della piena dignità. Ecco, era solo un pensiero che continuava. Ecco, grazie. La ringrazio per i suoi suggerimenti e chiaramente vorrei anche dire una cosa che in fondo l'unica cosa che ci distingue poi noi esseri umani dal mondo animale è proprio il fatto che il mondo animale è un mondo completamente governato dall'esigenza biologica, per cui praticamente gli animali si accoppiano perché si devono riprodurre, perché devono sopravvivere. Gli unici esseri viventi che fanno cose inutili sono gli esseri umani. Infatti noi facciamo cose che non sono necessarie, tra virgolette, per la nostra sopravvivenza fisica. Infatti, vi faccio un esempio. Immaginatevi un coccodrillo che manda il figlio a scuola. Non avrebbe senso. O immaginatevi un ippopotamo che va a vedere una pinacoteca. Su questo ci sono degli studi molto belli di filosofi e di biologi che dimostrano che proprio la specificità dell'essere umano è proprio quella di compiere azioni inutili che non sono finalizzate soltanto a ragioni di tipo biologico. È chiaro. Poi per quanto riguarda le altre cose ho preso appunti e rifletterò. Grazie. Siamo in chiusura. Mi fanno segno che è ormai ora di chiudere, quindi io ringrazio moltissimo il professor Ordine per questo appuntamento totalmente inutile. Lui rimane qui, quindi se qualcuno vuole così anche chiacchierare vis-à-vis ci sono i suoi libri fuori. Domani sarà ancora Padova per chi incontrerà gli studenti delle scuole superiori e penso che anche quello sarà un momento molto inutile. E a questo punto noi vi salutiamo. vi ringraziamo e vi auguriamo davvero ogni bene. C'è una slide. Prossimo appuntamento Roberto De Fez, Carlo Petrini, OGM tramite realtà. Anziché far salire le persone mi metto qui forse è meglio. Sì ma li facciamo, possiamo scendere giù a firmare i libri. Sì scendiamo giù. Grazie e arrivederci.